Un pomeriggio di tensione alla Volta Buona. Oggi pomeriggio il talk show La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo, ha messo in luce un acceso scontro tra i giudici di Ballando con le stelle. La puntata ha visto come protagonisti Sara Di Vaira, Rossella Erra e Guillermo Mariotto, i quali hanno dato vita a un battibecco che ha lasciato la conduttrice spiazzata. Durante l'episodio, Balivo ha tentato di mediare tra i tre, ma il risultato è stato un clima di tensione crescente. Il motivo del contendere risale a un episodio della puntata di sabato scorso, dove Di Vaira ha criticato Mariotto per aver definito il maestro Carlo Aloia il ragazzo. Rossella Erra ha aggiunto la sua voce al dibattito, contestando il punteggio di zero dato a Massimiliano Ossini. Queste affermazioni hanno innescato una reazione piccata da parte di Mariotto, che ha difeso le sue scelte. La situazione è degenerata rapidamente, con i tre che hanno ricominciato a scambiarsi frecciatine e accuse reciproche. Durante il confronto Sara Di Vaira ha rivelato che Mariotto ha sempre cercato di metterla in difficoltà quando era ballerina, senza mai riuscirci. Mariotto ha risposto, sottolineando che Di Vaira è arrivata prima soltanto una volta, definendola eterna seconda. Queste parole hanno colto di sorpresa Balivo che si è trovata nel mezzo di un acceso dibattito. La conduttrice ha cercato di riportare la calma, ma le tensioni sono continuate a crescere, con Di Vaira che ha affermato che il problema di Mariotto è che sia lo zero che il 10 che assegna sono sproporzionati. La situazione è ulteriormente degenerata quando Mariotto ha avuto uno scambio di battute con Rossella Erra, che lo ha definito presuntuoso. La reazione di Mariotto non si è fatta attendere, e ha risposto che la vera presuntuosa era lei. Questo scambio ha portato a un clima di polemica che ha coinvolto anche la conduttrice, la quale ha cercato di mantenere la calma ma si è ritrovata coinvolta nel dibattito. Balivo ha commentato ironicamente, è da tempo che noi lo facciamo, un po' meno tu, riferendosi a Mariotto. In sintesi la puntata di oggi ha messo in evidenza le dinamiche complesse e spesso conflittuali tra i giudici di Ballando con le stelle. Ritando un clima, attenzione!